Due gol negli ultimi otto minuti di gara, il Perugia conquista anche Vercelli consolidando la quarta posizione in classifica di Serie B, doppietta di Di Carmine, Breda esulta, mentalità vincente. Mentre le giovanili del Gubbio miettono successi nei tornei di Pasqua, va in archivio con un bilancio lusinghiero, il primo torneo città di Gubbio di Fuzza, l'organizzato dal Fontanelle, settore giovanile. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva da TRG, il calcio in primo piano con la Serie B e con un Perugia che fa scintille e conquista la settima vittoria nelle ultime nove gare, con un ruolino di marcia incredibile, 23 punti. Soprattutto quando viene di sera e diventa ancora più veloce. Però sapevamo che era questo tipo di gara e sapevamo che bisognava imparare anche a soffrire. Ultimamente quando c'è bisogno lo stiamo facendo. Oggi ancora di più. Però era importante mantenere equilibrio e allo stesso tempo crederci. Perché poi con la qualità che abbiamo davanti può sempre venire fuori qualche giocata importante. Quindi questo è un tipo di maturità che prima forse non avevamo. Più passano le partite e più invece riusciamo a far sempre nostro. Non so se siamo una grande squadra perché squadra e squadra è una parola fine a se stessa. Noi ci sentiamo una squadra vera e credo sia la cosa più importante perché sappiamo soffrire e sappiamo soprattutto non accontentarci. Sia durante la settimana perché nei momenti c'è un'intensità e una voglia di migliorare costante. Sia perché in partita a volte le cose vengono più facili e a volte meno. Però c'è sempre idea di trovare soluzioni, di saper soffrire e di mantenere una certa pericolosità. Poi su tutte le grandi squadre, chi sarà più bravo da qua alla fine e soprattutto poi se ci sarà nei play-off è tutto da dimostrare e non è certo da dire in questo momento. Perché credo che le nostre attenzioni vanno solo canalate nel lavoro e nella voglia di diventare più bravi. Quando diciamo di pensare la prima volta è perché sappiamo che ci sono sfide particolarmente complicate in tutti i campi. Anche oggi sapevamo di questo tipo di difficoltà e se non avessimo messo il 100% non saremmo riusciti a portare a casa i tre punti. Quindi dobbiamo mantenere questo tipo di mentalità e questa convinzione. E con il Perugia la giornata di recupero ha sorriso anche la capolista Empoli ma soprattutto la coppia Bari e Parma. I pugliesi hanno vinto ad Avellino provocando anche l'esonero di Walter Alfredo Novellino proprio alla vigilia della sfida di sabato prossimo contro i Grifoni al Partenio. Mentre il Parma ha sconfitto il blasonato Palermo avvicinandosi in classifica ai Rosa Nero terzi. In graduatori infatti gli emiliani insieme al Bari e al Perugia sono a quota 53 a soli 5 punti dal secondo posto del Frosinone che vale la serie A diretta. In basso Avellino risucchiato nella zona play-out, Avellino che sarà prossimo avversario del Perugia, mentre la Ternana è sempre più ultima in graduatori. E mentre la formazione maggiore Rosso-Blu è in campo in questi minuti a Fano per la partitissima della giornata di recupero in serie C del match non disputato a marzo, soddisfazione arriva nel weekend di Pasqua per le giovanili del Gubbio. La formazione allievi si è giudicata e la 27esima edizione del Memorial Alberto Corsi triangolare riservata alla categoria allievi. Nella prima gara il Gubbio ha battuto i padroni di casa del Trestina 2 a 1, nella seconda gara lo Sporting Arno ha battuto a sua volta il Trestina 2 a 0. Nel match decisivo pari tra Gubbio e Sporting Arno 1 a 1 e ai calci di rigore hanno prevalso il Rosso-Blu. Trionfo anche per i giovanissimi nazionali del Gubbio nella settima edizione del Memorial Delfo Cancellotti. È andato in scena al Borgione di Ponte Valleceppi sempre nei giorni di Pasqua. Gubbio che ha conquistato il primo posto sia con i giovanissimi che con gli allievi. I giovanissimi hanno battuto ai rigori il Sansepolcro dopo aver sconfitto in semifinale il Foligno, mentre i bitorgenzi avevano eliminato i padroni di casa del Ponte Valleceppi. Nella categoria allievi Gubbio che batte in finale gli allievi regionali a 2 del Ponte Valleceppi, mentre in semifinale aveva avuto la meglio sulla Nestor. È grande successo nel giorno di Pasquetta per la prima edizione del torneo di Futsal di calcio a 5, torneo Città di Gubbio organizzato dall'Associazione Sportiva Fontanelle, settore giovanile. Vincere la squadra del Lazio, ma soprattutto l'ottima organizzazione. Vediamo. Piccoli campioni crescono. Anche nel mondo del Futsal che in Italia sta prendendo sempre più piede e che a Gubbio è andato a dimostrazione regalando uno spettacolo di assoluto livello nella prima edizione del torneo Città di Gubbio, evento organizzato dal settore giovanile di Fontanelle con il patrocinio della divisione nazionale calcio a 5 e del comune di Gubbio. 8 squadre in campo, gara eliminazione diretta e tanti, tantissimi gol. Il torneo ha fatto centro entusiasmando i tanti spettatori a corsi da ogni parte d'Italia per assistere alla rassegna. Ad alzare il trofeo è stata la Lazio, campione d'Italia in carica, che dopo aver piegato di misure i padroni di casa del Fontanelle e di Giorgio Butò nel primo quarto di finale, ha proseguito poi senza intoppi, regolando nella finalissima gli emiliani del Bagnolo che hanno retto la grande per un tempo, salvo poi cedere alla superiorità dei bianco celesti. Sul poggio spazio anche per il Cussancona che nella finale, per il terzo posto, ha piegato la resistenza dei baby terribili della Lazio in versione sperimentale, con tanti sotto quote in campo. Il Fontanelle ha conquistato il quinto posto finale, regolando il città di Norcia e confermandoci una volta di più come la formazione di riferimento del calcio Umbro, pronta a giocarsi nuovamente l'accesso alla finaletta Scudetto, di cui la rassegna e gubina ha rappresentato una sorta di antipasto. Il 5-5 di Pisa ha superato nella finale per il settimo posto l'acqua e sapone al termine di una sfida molto tirata. Grandi apprezzamenti sono stati espressi dal sindaco Filippo Mario Stirati e dall'assessore Gabriele Damiani, presenti alla cerimonia di premiazione, così come dal vicepresidente vicario della divisione nazionale Andrea Farabini e dal delegato Umbro Simone Ortenzi. Ha funzionato la formula studiata dallo staff tecnico di Fontanelle e da Federico Mariotti, tecnico della rappresentativa giovanissimi regionale, che a fine aprile sarà impegnata nel torneo delle regioni, ospitato proprio dall'Umbria che avrà nella polivalente di Gubbio una della serie della prima fase. Determinante per la buona riuscita dell'evento anche il contributo dei volontari del Circo L'Aspi San Secondo Fontanelle, che hanno curato il pranzo per giocatori, staff tecnici e dirigenziali e per le famiglie presso la struttura di Fontanelle. A margine della rassegna ha premiato anche il numero 10 della Lazio, Mattias Curati come MVP del torneo, mentre Yashan Di Pral è stato giudicato miglior portiere della manifestazione. La prima edizione del torneo va dunque in archivio con un pieno di sorrisi e con la consapevolezza di essere davvero sulla buona strada. Per Gubbio è un'altra bandierina nella cartina geografica dello sport nazionale. E lasciamo il futsal, parliamo di rugby. Appuntamento domenica con il rugby di serie A Pianni Massiana Perugia, la Barton Cus Perugia, che milita nella massima serie, scenderà in campo alle 12.30 per affrontare la seconda forza del torneo nella Pool 3 Itineracus Torino. La Barton, che è quarta in classifica con 15 punti, 6 meno degli avversari, cercherà di riscattarsi dalla sconfitta incassata nel girone di andata quando a Torino vinsero i padroni di casa 45 a 7. In serie A femminile, invece, le donne etrusche ospiteranno il Frascati per la quinta di ritorno. Domenica 8 aprile è l'ultima di campionato interregionale in serie C. Girone Umbria e Marche, la Barton Perugia giocherà in casa con il Foligno. L'attività giovanile nel frattempo, anche il fiore all'occhiello del Cus Perugia, che con le sue proposte crea sani interessi per i più piccoli e al contempo gli avvia la pratica di una disciplina sportiva. La grande e rinnovata struttura gestita dal club bianco-rosso-blu in via Tuderte consente di ospitare una scuola a calcio sempre più attrezzata. Un anno e mezzo dal lancio di questa novità le iscrizioni sono fortemente cresciute grazie al lavoro del responsabile della sezione Fabrizio Quaglietti e dei tecnici Mattia Menichini e Fausto Frittelli. Chiudiamo questa edizione del TG Sport con il podismo. Si correre domenica prossima prima dell'ora di pranzo la prima edizione del 5000 di Perugia, gara polistica sulla distanza dei 5 km, in programma sulle strade di Sant'Andrea delle Fratte. La competizione riservata ai adulti è inserita nell'ambito del quinto trofeo circolo dipendenti perugina, valevole come tappa del Grand Prix Fidal di corsa su strada giovanile. La gara si disputerà su un circuito pianeggiante da 1000 m, ripetuto per 5 volte, partenza fissata alle 11.30, quando avrà termine la competizione amatoriale riservata ai bambini. La manifestazione è organizzata dalla società CDP Atletica Perugia insieme al circolo dipendenti perugina, guidato da Marco Ballerani e Federico Mariangeloni, sotto leggi da Dell'Endas, i gol del patrocino del Comune di Perugia e del Coni. Ed è anche l'ultima notizia di questa nostra edizione del TG Sport che potrete vedere in replica intorno alla mezzanotte 30 e domani ritrovare sul nostro sito trgmedia.it. Vi lascio al TRG Plus e vi ricordo anche stasera l'appuntamento che ormai diventerà consueto nella seconda serata di TRG con Sport e Incontri, rubrica quotidiana a cura di Sergio Pioppi in onda intorno alle 23.30. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento con TRG. Grazie per la visione!